Ciao amici, benvenuti a casa mia, nel mio piccolo canale. Oggi video collaborazione con le Cindy Girls, che è il loro link, è qua sotto il link dei loro canali. Siamo un gruppo di ragazze, signore, che ogni tanto fa dei video insieme. Oggi è un video collaborazione con le belle scoperte del mese, cioè quello che noi abbiamo scoperto in questo mese di novembre. Io ho scoperto delle cose interessanti, di solito parlo di viaggi, di posti, di luoghi, ma questa volta no! Parlo di una cosa particolare che ho scoperto e mi è piaciuta molto. Quindi, like, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sigla e che si va! Ciao! Nella mia zona ho scoperto un'azienda, un'azienda che produce creme per il corpo, per i capelli, per il viso, con erbe e tutti i prodotti naturali. Ho comprato una crema e l'ho già finita. Quest'azienda si chiama Anthos e spedisce anche online. Vi lascio il link qua sotto perché davvero ne vale la pena di dare un'occhiata. Allora, questa l'ho comprata e non mi è stata regalata. Non sto facendo recensioni a pagamento, ma sono recensioni gratis. Ho provato il prodotto su di me e devo dire che questa crema è molto efficace. Crema idratante alle proteine di riso. La ditta è Anthos, il link è qua sotto. Poi, ho preso anche un contorno occhi, sempre di questa ditta Anthos, che ha gli estratti di mela, nocciolo d'albicocca e di nacea, borragine. Questo qui, non l'ho ancora finito, ce n'è ancora metà, lo sto usando. È molto buono anche questo qua. Poi, invece, in una erboristeria ho trovato questo Rimel, costato 9 euro, 9,8-9 euro, neanche tanto. È favoloso. Lascia le ciglie belle lunghe e belle girate. È un prodotto efficace e molto buono. Anche questo. Mi sono trovata bene. Dopo tanti Rimel e mascara che ho comprato, ero allergica e mi facevano lacrimare. E mi trovavo tutta pasticciata qua. Questo, invece, no, è ottimo. E la linea di questo LR, si chiama Wonder Company. Chi lo vende? È una signora che ho conosciuto poco tempo fa in questa erboristeria. E l'ho trovata molto interessante questa signora. Siamo diventate anche amiche. Si chiama Grazia. Siamo diventate amiche e mi dà dei consigli ottimi. Ma, oltre al mascara, la chicca è la crema madre, crema di viso al latte d'asida. È favolosa. Lascia la pelle bella morbida e oltretutto anche profumata. È efficace. Profumata, come ho già detto. È buona. La consistenza è questa. E questa qua. Mmm, che profumo. Mi viene voglia di mangiarla come la Nutella perché è profumatissima. È davvero molto buona. Molto, molto buona. Davvero. Vi lascio il link di questa erboristeria così potete dare un'occhiata, potete sbirciare e sbizzarrirlo. Con questo ho finito. Grazie di aver guardato il video. Ricordatevi sempre il like. Ricordatevi sempre di iscrivervi al mio canale. Ciao e al prossimo video. Ciao.